Buonasera e ben trovati al nuovo appuntamento di Carmignano informa la nostra rubrica dedicata al comune di Carmignano, concluso il primo tratto che dal confine con il comune di Poggio a Caiano si sviluppa lungo l'argine del torrente Ombro nel cantiere per la realizzazione della pista ciclopedonale via degli Etruschi si è spostato sulla provinciale via Lombarda. Operai al lavoro per la realizzazione di un altro tratto di pista ciclopedonale denominata via degli Etruschi a Comeana. Il nuovo cantiere si apre all'ingresso del campo sportivo della Virtus Comeana e corre lungo la provinciale via Lombarda e via Etrusca andandosi a ricongiungere alla pista ciclabile già esistente in corrispondenza del parcheggio di via Montefortini. Questa è la ciclopista denominata ciclopista degli Etruschi appunto perché nel suo percorso costeggia la tomba Etrusca dei Boschetti. La pista percorrendo la strada provinciale arriverà in via Montefortini dove poi si completerà in questo momento però c'è già una previsione urbanistica che porterà la ciclopista fino all'area sportiva di Comeana dove c'è il campo sportivo e la nostra piscina comunale. Queste nuove infrastrutture ciclabili sono un'opportunità sotto molti punti di vista prima tra tutte la rigenerazione dei luoghi che attraversano rendendo più sicuro il territorio. I lavori sono stati completati sulla testa dell'argine appunto del torrente Ombrone. Ora la ditta si è spostata sulla strada provinciale dove verrà realizzata una carreggiata apposta per le biciclette, cirlo pedonale, pedoni e biciclette. Stato della connettività internet nel comune di Carmignano via al sondaggio tra tutti i cittadini residenti. L'obiettivo immediato è verificare la connessione per l'istruzione a casa di bambini e ragazzi in questa particolare fase. Tramite il modulo e il questionario compilato dalle famiglie il comune avrà un riscontro immediato sullo stato della rete internet su tutto il territorio comunale. La connessione internet è ormai un bene di prima necessità. Il ricorso al web in questo periodo segnato dalla pandemia è diventato in molti casi essenziale sia per motivi di lavoro che di didattica a distanza. Ma le video lezioni seguite tramite computer, smartphone o tablet impiegano un livello elevato di banda così come il telelavoro. È proprio per verificare l'effettivo stato di connettività sul territorio comunale e garantire a tutti condizioni paritarie di accesso che l'assessorato all'informatica e il settore sviluppo e innovazione del comune di Carmignano lanciano un sondaggio fra tutti i cittadini. Il sondaggio, disponibile all'indirizzo www.ilgiornaledicarmignano.it, richiede di inserire la propria area di domicilio, la compagnia telefonica con la quale si è connessi ad internet e la tipologia di connessione utilizzata. Infine, viene richiesto di specificare la qualità della connessione. L'obiettivo immediato del progetto riguarda l'istruzione di bambini e ragazzi. I dati sono già veramente tanti. In solo due giorni abbiamo ricevuto oltre 380 risposte dai nostri cittadini. Per esempio, nella parte di Carmignano, Carmignano piazza, centro, è possibile trovare qualche soluzione con antenne radiofoniche. Per velocizzare e proprio per poter dare la possibilità anche di avere connettività. Perché c'è venuta l'esigenza di velocizzare queste operazioni. Perché i nostri ragazzi delle superiori sono già tutti in didattica a distanza integrata. E quindi vogliamo avere la certezza che tutti i ragazzi possano seguire le lezioni e che sia in qualche modo confermato il loro diritto allo studio. Il sondaggio ha però anche un obiettivo a lungo termine. Tutto il territorio sarà infatti mappato per ottenere una fotografia reale della situazione. La mappatura verrà poi sovrapposta a quella della connettività ufficialmente dichiarata dalle aziende operatrici. In caso di dati discordanti ci si concentrerà sulle zone meno fornite per pianificare eventuali interventi futuri. Innegabile, ci sono zone grigie dove non sono possibili neanche queste soluzioni. Quindi stiamo cercando di fare un lavoro più a lungo termine con alcune compagnie e speriamo di riuscire ad avere soluzioni per quelle zone lì velocemente ma non molto. Per esempio comeana zona fiscina o come i comianesi dicono sottombrone oppure Santa Cristina. Lì siamo veramente molto in difficoltà. Ci stiamo lavorando ma ci sono grosse difficoltà. Sempre nelle cosiddette zone grigie sul fronte della scuola però si prova ad accelerare i tempi per far sì che i ragazzi non perdano ore di formazione preziose. faremo tutto ciò che è il nostro potere fare per dargli spazi pubblici rispettando tutte le normative, tutte le regole anti contagio come per esempio per la parte di comeana lo spazio giovani. Attrezzarlo in modo tale che i ragazzi possano venire lì e seguire da lì le lezioni della scuola. A causa dell'emergenza sanitaria la biblioteca comunale di Siano resterà chiusa fino al 3 dicembre prossimo ma il prestito dei libri non si ferma grazie al servizio degli armadietti esterni. Allora guardiamo come funziona. Apri l'armadietto con un codice e trovi libri che desideri. Funziona secondo questo principio il prestito di libri e dvd della biblioteca comunale di Carmignano nella fase di chiusura al pubblico secondo quanto disposto dal dpcm del 4 novembre. Un modo creativo per non arrestare il piacere della lettura. Attraverso una mail da mandare in biblioteca all'indirizzo biblioteca palazzeschi chiocciolacomune.carmignano.po.it i lettori ordinano il libro, i nostri dipendenti sistemano quindi il libro e rispondono all'utente con un codice che è il codice da poi comporre nell'armadietto, indicano nella mail sempre anche il numero dell'armadietto dove troveranno i libri e a quel punto l'utente viene, apre l'armadietto con il codice e ritira i propri volumi. Sono previste due finestre di ritiro nella settimana, da lunedì alle 14 a mercoledì sera e da giovedì alle 14 a domenica sera. Al termine di ogni finestra i libri non ritirati non saranno più disponibili. Per quanto riguarda la restituzione non ci sono limiti di tempo, il cancello esterno della biblioteca in via Gadda è sempre aperto ed ogni ora sarà possibile introdurre i libri gialletti nel box esterno di restituzione. C'è stato molto sollevato, qualche bambino ha brontolato perché sperava di non dover leggere, almeno sollevato da questo impegno e per qualcuno sembra quasi un obbligo e invece diciamo che gli utenti più affezionati sono stati veramente contenti perché avere un servizio così importante che consola in questo periodo lo abbiamo ritenuto indispensabile. Per questa puntata è tutto, Carmignano in forma torna tra due settimane sempre di lunedì alle 20.05. Buona serata.